Ciao, sono Cristina e mi sono laureata in tecniche di laboratorio biomedico presso l'Università dell'Insubria. Ho scelto questo corso di laurea magistrale perché volevo approfondire le scienze biomediche, non solo dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista pratico. Infatti sono previste attività di laboratorio presso le strutture di busto arsizio, dove vengono anche tenute le lezioni frontali e i professori sono molto disponibili a ospitarci presso i loro laboratori di ricerca per farci vedere dal punto di vista pratico quello che viene poi affrontato nelle lezioni frontali.